Siamo qua a Mountain Bike Connection Summer 2022 ad Andalo, Donomiti Paganella Bike Area, per provare in posizioni ideali alcuni dei prodotti più interessanti del mountain biking. Siamo qua con le nuove ruote WTB HTZ dedicate alla mountain bike pedalata assistita. Sono basate su dei cerchi del marchio californiano già in commercio, ma il prodotto è tutto nuovo, compresi raggi e mozzi. L'obiettivo di WTB è produrre un set di ruote che sia assolutamente solido e sicuro per l'utilizzo con le e-mountain bike e quindi dare tutta la performance e tutta la confidenza necessaria al biker su biciclette che superano i 20 kg e arrivano a sfiorare, come su questa white da enduro, anche i 25 kg. WTB ha rivisto comunque il cerchio che ha una tripla camera interna, ha un canale più profondo per ospitare un primo flap a protezione dell'innesto interno dei raggi, su cui poi viene applicato il classico nastro per la configurazione Tubeless Ready. I raggi sono in misura unica, quindi per dare la massima semplicità nella manutenzione, ordinare e straordinaria, quindi quando si presenta qualche problema non si deve impazzire a cercare misure diverse, questo grazie al cerchio asimmetrico. Il mozzo, anche questo, è stato rivisto, molto più solido, presenta un asse in acciaio interno. Il lavoro principale è stato fatto sulla ruota posteriore, quindi all'interno abbiamo un perno in acciaio inox da 17 mm di sezione, con passaggio interno da 12 mm in standard boost, quindi, e soprattutto una configurazione di ruotismi super sicura. Doppio cuscinetto all'interno e un cuscinetto all'esterno. Anche in questo caso WTB ha cercato di semplificare la vita ai biker e meccanici utilizzando dei prodotti di facile reperibilità sul mercato. Questo discorso vale per la configurazione con ruota libera per trasmissione SRAM a 12 velocità. Per quanto riguarda il micro spline di Shimano, invece, la configurazione è ancora più robusta. Abbiamo due coppie di cuscinetti, quindi due all'interno e due all'esterno. Altra cosa molto interessante, la ruota libera è su sei palette con ingaggio immediato e contemporaneo su tutte e sei, quindi per avere una risposta pronta e reattiva della bici. Noi stiamo testando queste ruote HTZ sui sentieri di andolo, sul tour pedalato preparato dai ragazzi di Bike Connection Agency. La configurazione della bici White prevede anche delle gomme sempre del produttore californiano WTB. Le prime impressioni sono quelle di un prodotto che dà molta precisione di guida grazie alla necessaria rigidità laterale. Quello che in inglese chiamano compliance, quindi una buona risposta per quanto riguarda lo smorzamento delle piccole variazioni del terreno, questo anche in combinazione con le gomme di ampia sezione in configurazione tubeless che appunto permettono una guida molto confidente e molto precisa. Il prodotto WTB HTZ arriverà nell'autunno 2022, vi terremo aggiornati in futuro con dei test più approfonditi. Per adesso proseguiamo con la nostra preview. Ciao a tutti!